Fine partita al Comunale di Rina, siamo con Giancarlo De Croo, 0-0 tra il Forza Croce Fili e il Savoca, merito anche di De Croo che ha prato anche l'imparabile. Diciamo che è stata una bella partita, sofferta da ambi le squadre, aperta e soprattutto a qualsiasi risultato. Devo dire che il Savoca ha avuto tante occasioni di gol, ma per sua sortuna non è riuscito a fare il gol, ma anche noi potevamo fare il gol e vincere questa partita. Ancora la difesa del Forza Croce non ha preso gol, siete la difesa meno battuta di questo campionato visto che l'Alitermo ha preso già un gol? Sì, siamo la difesa meno battuta, ma è tutto un merito di tutta la squadra, non solo della difesa, partire dal centrocampo e l'attaccante pure che rientrano e fanno difendere bene questa squadra. Il merito è di tutti, lo ripeto. Lo 0-0 di oggi tra il Savoca e il Forza Croce, avete fatto un po' il gioco dell'Alitermo e che se ne sta andando? No, ma noi abbiamo fatto la nostra partita e l'abbiamo fatta perché siamo fuori dai play-off e dobbiamo rientrarci al più presto possibile. Prima pensiamo a noi e poi il resto non ci riguarda. Secondo te l'Alitermo è veramente la squadra più forte di questo torneo? Secondo me sì, però vedo Sparagon attaccato alla grande.